Quando si fa riferimento alla valenza di una comunità, alla sua capacità di dotarsi di una precisa strategia, di annoverare una definita visione di quello che dovrà essere realizzato, si fa riferimento ad una molteplicità di cose. Tornando sulla vicenda di Taranto e sulle sue tante contraddizioni colpisce il fatto, lo abbiamo detto più volte, che nella offerta scolastica della città dei due mari, della città che si è candidata ad ospitare i giochi del Mediterraneo ricevendo dalla comunità internazionale anche l'ok per questo prestigioso evento, ebbene in questo contesto manchi nell'offerta formativa un istituto nautico. I tarantini che volessero fare questi specifici studi sono costretti da sempre a recarsi nella città di Brindisi. Esiste qualche corso all'Istituto Archimede, ma insomma è poca roba rispetto alla nascita di una scuola che si occupi soltanto di questo tipo di formazione. Questo sta a significare ancora una volta come Taranto sia una città piena di contraddizioni, che non guarda neanche alla propria identità e che non costruisce attorno alla propria identità anche una certa visione futura. Quello dell'Istituto nautico dovrebbe essere una battaglia che la classe politica, le associazioni di categorie, penso per esempio anche alla Confindustria, della Confcommercio, dovrebbero intestarsi perché è attraverso la formazione, è attraverso i principi che costruiscono la valenza di una determinata città che si può pensare di traguardare il futuro con non solo maggiore ottimismo ma anche con maggiori prospettive di crescita.